Ah scusate, purtroppo ho fatto un casino, praticamente YouTube se destini i video ai bambini non ti permette di fare i commenti, quindi vedete adesso, decisione nessuna, non è destinato ai bambini i miei video ma non ho messo limitazioni e quindi adesso potete continuare a commentare se avete visto. magari qualche commento, qualche video che non potevate commentare, scusatemi ma era un'opzione che non conoscevo e adesso in futuro sarò più diciamo che si impara, si impara, è bello si impara, va bene, ciao.